Sappiamo bene quanto specie nell'ultimo periodo l'incubo della guerra sia tornato a far paura all'Europa e al mondo in generale. Padre Pio è sempre operato per la pace e pregato molto per la salvezza dell'umanità. Ma lo stesso frate di Pietralcina ha dovuto vivere non una ma ben due guerre mondiali. Durante la prima, nel 1917, era addirittura sotto le armi, chiamato ad assolvere il servizio militare. Dio ha permesso a Padre Pio di compiere una quantità enorme di miracoli durante le guerre, ma quello che mi accingo a raccontarvi ha davvero dell'incredibile. Come detto, siamo nel 1917. Padre Pio assolviva il servizio militare. Siamo nel mese di novembre. Il frate di Pietralcina è in licenza a San Giovanni Rotondo, quando giunge la triste notizia della disfatta di Caporetto. Padre Pio ha il cuore affranto, totalmente spezzato, a causa della morte dei numerosi soldati caduti al fronte. E perciò pregò molto l'altissimo quel giorno. I suoi pensieri andarono a tutti i ragazzi dell'esercito caduti in guerra, ovviamente. Tutti quei poveri ragazzi che erano caduti in battaglia. Ma non solo, penso anche al generale Luigi Cadorna, additato come colpevole della disfatta e sostituito dal generale Armando Dias. Cadorna la visse davvero male e si sentiva disonorato e umiliato, e voleva quindi farla finita. Era il 9 dicembre del 1917, quando il generale Cadorna si era barricato nella sua stanza nel palazzo Zara. Aveva dato ordine preciso alla sentinella di non lasciare entrare nessuno. Aveva già posato addirittura la pistola sul tavolo. Tutto era pronto. Prima di passare all'atto, però, qualcosa lo distrasse. Vide che un frate, un giovane frate con la barba e lo sguardo severo, era entrato e si dirigeva verso di lui. Aveva l'abito da monaco, che era però molto consumato, quasi rotto. Il frate li andò incontro e dopo aver detto al generale che era stato mandato da Dio, lo abbracciò, lo confortò e dopo aver parlato a lungo lo convinse a non commettere quell'insano gesto. Poi, così come era entrato nella stanza, ne uscì, sparendo di colpo e nel nulla. Passò del tempo, quando anni più tardi il generale Cadorna vide casualmente su un giornale un articolo che parlava di Padre Pio e nella foto che accompagnava l'articolo riconobbe il frate Cappuccino che gli aveva salvato la vita. Non ci pensò su due volte e decise di partire per San Giovanni Rotondo per trovare conferma dell'accaduto. Una volta in Puglia, giunto al convento dei frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo, riconobbe, tra alcuni frati, Padre Pio. Era il 1920. Quindi, riconobbe in Padre Pio quel frate che lo aveva salvato in passato, distogliendolo dai propositi di suicidio. Gli si fece incontro e Padre Pio, vedendolo arrivare, con un'espressione amorevole e severa, anche se molto serena, gli disse, generale, ce la siamo davvero vista brutta quella notte, vero? Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.